Ciao a tutti, buongiorno, buona domenica. Domenica 14 aprile, fa un caldo assurdo, ci saranno già quasi 30 gradi, però lo stesso sfido il caldo e sono qui per parlarvi di lei. La combo che mi sta facendo divertire un sacco nell'ultimo periodo, una combo composta da una canna Sportex Black Pearl GT3 con un casting dai 20 ai 51 grammi, abbinata ad un mulinello Abu Garcia. Il modello preciso non lo ricordo, è comunque una Abu Garcia semplice da casting con un rapporto di recupero di 6.4.1. Ho scelto di imbobbinare questo mulinello con un trecciato da 0.29 per poter adattare questa canna a un po' tutte le situazioni che possono crearsi. Io personalmente mi sto trovando da dio perché è una canna con una schiena molto robusta ma allo stesso tempo ha un'azione veramente fast ed ha anche una buona sensibilità in punta che mi permette di utilizzare comodamente esche che vanno dai 10-15 grammi e allo stesso tempo utilizzare anche esche un po' più generose attorno ai 20-25 grammi. Logicamente stando sempre sotto la portata del casting ma ciò non fa differenza. Premetto che i brand non mi stanno pagando per fare questo video, magari, solo esprimendo una mia sincera opinione. e direi che non resta che provarla. Non la proverò adesso, l'ho già utilizzata, ho avuto modo di registrare alcune clip che ora andrete a vedere qui di seguito. Quindi adesso vi lascio al video e buona visione. Non riesco a lanciare l'esterno. Ui, c'è, c'è. E vai. Ah, no, cosa? Wow, un perca, raga. Che spettacolo. Non avevo il guadino. Minchia, che perca, raga. Wow. Mi ha dato una botta in canna allucinante. Ve lo giuro, pensavo che era un siluro. Via. No. 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 Yeah. oh c'è e vai ciao ciccio dimmi che stavo registrando c'è che bomba bella raga ed ecco qui ragazzi il secondo pesce a casting con la nuova combo sportex blackpearl gt3 mulinello abu garcia e le gomme di beppe vi lascerò il link in descrizione se volete contattarlo sono delle gomme fantastiche grazie per avermi fatto divertire e ora riesco pure tornartene a casa chiudi la bocca però no 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 Grazie a tutti. Sotto i piedi proprio. Sotto i piedi proprio. Sotto i piedi proprio. Ecco qua. Canna Sportex, Molinello Abu, Silurotto con le esche di Angio, migliori esche. Piccino, lì a casa, è di là la strada, bravo. Ciao. Piccino, lì a casa, è di là la strada, bravo.